questa legge. Esattamente, noi abbiamo chiaramente e contestiamo chiaramente questa riforma perché è una riforma completamente sbagliata che limita gli spazi di democrazia in questo Paese. Oggi stiamo cercando di sollecitare chi questa riforma l'ha scritta, cioè la maggioranza in particolare il Partito Democratico e il Governo, di spiegarci le motivazioni di alcune scelte, ad esempio di un Senato totalmente inutile che comunque continua a costare quanto costa oggi ma che non ha più alcun potere. Ebbene non ci hanno ancora dato alcuna risposta ma io penso perché una risposta non ce l'hanno, ce l'abbiamo noi. Loro fanno una riforma semplicemente perché dicono di averla fatta. È un esercizio semantico, un gioco di parole per dire semplicemente abbiamo fatto qualcosa, in realtà questa riforma è nulla.